L'artificial intelligence, 5G, l'economia digitale. In un paese dove si lamenta sempre ci sono delle tasche di eccellenze e il giovedì 7 novembre a Palazzo Mezzanotte a Milano parleremo anche di questo. La ricerca avanzata nell'economia digitale, nella genomica, nella epigenetica e l'applicazione di artificial intelligence può cambiare le nostre vite. Giovedì 7 novembre, sarà il mio piacere di essere con voi a Palazzo Mezzanotte a Milano in un convegno in collaborazione con Le Fonti TV e Area Science Park di Trieste. Giovedì 7 novembre, ci vediamo lì!